Vi siete mai domandati che cos'è che ci identifica come persone? Potremmo usare delle risposte molto semplici. Innanzitutto il nome, il cognome, magari il tono della voce, sicuramente la fisiognomica. I tratti somatici, quelli del volto in particolare. Riusciamo a essere riconosciuti prima ancora magari che per nome, per ciò che siamo, per la nostra immagine. Gli occhi, il naso, la bocca, le orecchie, le tempie, la fronte, tutti tratti distintivi. Quindi si può quasi dire che esistiamo in funzione della nostra immagine. Ma può esistere un uomo che non ha immagine? Può essere esistito un uomo senza volto? Un uomo la cui faccia è rimasta sconosciuta per decenni, eppure esisteva ugualmente? La risposta è affermativa e riguarda il protagonista del nostro video di oggi. Un uomo di segreti? Un uomo incredibilmente umano, nonostante il proprio ruolo? Un uomo che ha vissuto sulla propria bella prima la tragedia del nazismo e poi quella della guerra fredda. Protagonista, anzi, della guerra fredda. Il suo nome era Marcus Johannes Wolf. Per tutti Mischa, o meglio, l'uomo senza volto. Visto che oggi parliamo di spie di sicurezza, non possiamo che ringraziare lo sponsor di questo video, che è NordVPN. State vedendo in questo momento il link in sovraimpressione. Ebbene, vi invitiamo a rimanere con noi fino alla fine del video, perché l'offerta che viene presentata oggi da NordVPN è decisamente molto vantaggiosa e chiaramente mette a sicuro la vostra privacy e le vostre preziosi informazioni. Quindi, restate con noi fino alla fine. L'uomo senza volto. L'uomo senza immagine. L'uomo di cui, per tanto tempo, non si è avuta nemmeno una fotografia. Se ne conosceva il nome, appunto, Marcus Johannes Wolf, il soprannome Mischa, è un'aura di mistero. Un'aura che avrebbe condizionato non solo le spie, ma anche giornalisti e scrittori. Uno di questi, John Le Carré, ex spia britannica, tra l'altro, si sarebbe ispirato proprio a Marcus Mischa Wolf per il grande nemico della trilogia di George Smiley. Cioè Carla, l'inafferrabile e oscuro capo dei servizi segreti sovietici. Lo si può intuire dall'unica volta in cui si sente il suo reale cognome nel libro Tinker Tailor Soldier Spy, la talpa, o nel film che è stato ricavato alcuni anni fa. Il cognome è Gertzmann, un cognome intubiamente tedesco, e che rimanda a quei cittadini tedeschi che scapparono dalla Germania all'avvento del nazismo e, per fede comunista, si rifugiarono a Mosca, alloggiati inizialmente all'hotel Lux. Ebbene, anche Marcus Mischa Wolf e la sua famiglia fecero esattamente questo tipo di percorso. Scapparono dalla Germania per più motivi. Il padre di Mischa Wolf, Friedrich, non era solo un militante comunista, era anche di origini ebrea, medico e scrittore. Ed ebreo era anche il fratello di Marcus, Korad, futuro regista. Ebrei e comunisti, quindi nemici giurati del nazismo che stava divorando dall'interno la Germania, come una metastasi, come un tumore. Per questo motivo la famiglia Wolf fuggì prima in Francia e poi a Mosca. E da quel momento in avanti la vita della famiglia Wolf sarebbe cambiata per sempre. Soprattutto la vita di Marcus, prima di tutto, spedito in una scuola tedesca a Mosca, ma di provata fede comunista, la Karl Liebknecht Schule. Scuola intitolata a uno dei leader della rivolta comunista e sovietica seguita alla Grande Guerra. E successivamente in istituti russi, dove il giovane Marcus Wolf si sarebbe fatto notare per la grande intelligenza, l'ottima abilità anche nella lingua russa e una capacità fuori dal comune di ragionare negli schemi, ma anche al di fuori degli schemi. Non è un caso che dopo l'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania con l'operazione Barbarossa, a 18 anni, Marcus Wolf abbia cominciato ad abbracciare seriamente il comunismo. Prima nel trasferimento ad Almaty, lontano, molto lontano, in Kazakhstan, quasi ai confini col Sinkiang cinese, e poi con l'ingresso nel Cominterno, insieme a tanti altri giovani della sua generazione. Un ingresso spontaneo, determinato da quell'idea di poter diventare un giorno, un uomo fondamentale per la riuscita della rivoluzione sovietica nel mondo. Un ruolo che sarebbe tornato alla ribalta, a guerra conclusa, pochi anni dopo. Quando finisce la guerra, quando la Germania viene sconfitta, quando l'armata rossa entra a Berlino e marcia sulle sue macerie, Marcus Wolf è ancora giovane, ha 22 anni, e ha un futuro davanti. Inizialmente come giornalista viene incaricato dalla radio di lingua tedesca messa in piedi dai sovietici di seguire il processo di Norimberga. Sì, il processo ai gerarchi, il processo ai mostri che avevano messo in piedi l'orrore in cui era precipitata l'Europa. Ed è come giornalista accreditato che il giovane Marcus Wolf inizia a farsi conoscere. Le sue ultime foto risalgono proprio al periodo in cui lavora come giornalista prima e come ha detto stampa dopo. Tra il 1949 e il 1951, Marcus Mischawolf torna in Unione Sovietica e ha detto stampa dell'ambasciata della Germania Est, la DDR, la Repubblica Democratica Tedesca, lo stato, oggi lo possiamo definire stato fantoccio, messo in piedi dai sovietici della Germania Orientale. Al suo ritorno a casa, nel 1952, all'abbia 29 anni, cominciava una seconda carriera. Una carriera lontana dai riflettori, una carriera che lo porterà a diventare l'uomo senza volto. Già perché dal 1952 fino al 1986, 35 anni, Marcus Wolf scompare. Non lo si vede nelle occasioni pubbliche, non lo si vede alle parate del primo maggio, non lo si vede in visita da nessuna parte. L'uomo senza volto si sa che esiste, si sa chi è, si sa cosa fa, ma non se ne ha un'immagine. I trasfughi che ogni tanto riescono a passare ad ovest, prima della costruzione del muro di Berlino, oppure dopo tradendo il blocco sovietico e riuscendo in qualche modo a non farsi arrestare, a non finire davanti a un protone di esecuzione, cercano di dare una descrizione fisica, ma i racconti sono estremamente contraddittori. Non se ne conosce l'altezza precisa, non se ne conoscono le fattezze esatte. Alla fine circolano diversi identikit. Ma chi è in quel periodo Marcus Wolf? Molto semplicemente, all'età di 30 anni, la Repubblica Democratica tedesca ha incaricato lui e un ristretto gruppo di collaboratori di mettere in piedi, all'interno del Ministerium für Staatsseicherheit, la temutissima Stasi, un reparto di intelligence, un reparto di spionaggio. Quel reparto viene chiamato HWA, significa Hauptverfaltung aufklärung, ossia il meccanismo, deputato a coordinare le attività di spionaggio estero. Marcus Wolf è l'uomo delle spie, l'uomo che infiltra dei suoi agenti oltre cortina, ed è tremendamente bravo. Volete una dimostrazione? Benissimo. Avete mai sentito parlare di Willy Brandt? Il borgomastro di Berlino Ovest, l'uomo che era a fianco di Kennedy il giorno in cui il Presidente degli Stati Uniti pronunciò il cerebrimo Ich bin ein Berliner, io sono un berlinese. L'uomo che, con la sua idea politica, aveva spianato la strada a una diversa concezione di Europa, a una Germania si forte economicamente, ma aperta verso l'est, la Ostpolitik. Ecco, Willy Brandt. No, non era lui l'agente di Mischa-Volfe, ma sarebbe stato costretto alle dimissioni a causa di Mischa-Volfe, perché diversi anni dopo si sarebbe scoperto che il suo segretario particolare, Jürger Gillock, era l'agente di Mischa, un uomo di cui Brandt si fidava ciecamente, al punto da affidargli gli appunti per i discorsi e alcuni documenti riservati. Era l'orecchio indiscreto del HWA. Ah boh, incredibile. Eppure è vero. E quanti altri casi di agenti doppio giochisti o di spie improbabili ci sono stati grazie all'abilità di Marcus Wolfe, capace di reclutare giovani disincantati, di cavalcare la protesta sessantottina? A un certo punto si sospetta dell'intervento dell'HWA e di Mischa-Volfe anche a favore della Rotterme Fraction, quella che diventerà nota come la banda Badermeinhof, un po' come dire le Brigate Rosse tedesche. Verità o menzogna? Quello che si sa è che la Rotterme Fraction ebbe appoggi politici, soldi e anche qualche arma dal blocco orientale. I giovani della RAF poterano recarsi anche in Medio Oriente ad addestrarsi all'uso delle armi e degli esplosivi, grazie ai buoni uffici dei servizi segreti orientali. Ma non furono certo diretti o etero diretti da Berlino Est. Così come all'interno degli schedari dell'HWA c'era quel famoso fascicolo Sebarat. Riguardate Carlos, lo sciacallo, Ilic Ramirez Sace, il terrorista giudicato più pericoloso di tutto il mondo, un uomo da temere e che in parte Marcus Wolf aveva conosciuto, ma di cui non si fidava completamente. Tant'è vero che di lì a poco lo stesso Carlos si sarebbe messo in proprio a tutti gli effetti. Spie, terroristi tedeschi, terroristi internazionali. Negli archivi dell'HWA sotto la guida di Mischa Wolf c'era proprio di tutto. Anche fascicoli riservati chiaramente, fascicoli che riguardavano i politici tedeschi occidentali ed europei. Dossier, dossier che riguardavano le loro abitudini, le loro preferenze, le loro amicizie, le loro frequentazioni. In cima alla lista dei ricercati e dei servizi occidentali c'era sempre lui, l'uomo senza volto. Un nome, un soprannome e nulla più. E lo sarebbe rimasto almeno fino al 1986. Anche se in realtà già alla fine degli anni 70, le prime crepe del muro, non solo di Berlino, si stavano a prego. Marcus Wolf aveva perso parte del suo disincanto. Aveva capito che il mondo stava cambiando. L'avrebbe capito ancora di più tra l'84 e l'86. Con i rapidi avvicendamenti al vertice dell'Unione Sovietica, tra Yuri Andropov, Konstantin Cernienko e infine l'arrivo di Mikhail Gorbachev. Il vento nuovo, la Glasnost. Quella Glasnost che avrebbe convinto Mischa Wolf a opporsi all'ultima generazione di tiranni della Germania orientale. Addirittura a Erich Konecker in persona. Per questo motivo, Wolf preferì ritirarsi dal servizio attivo, andare in pensione e aiutare il fratello maggiore Conrad nella sua opera di cineasta. Ma non aveva mai dimenticato Wolf il suo vecchio ruolo. Al punto che quando ormai la DDR stava accadendo a pezzi, quando era chiaro che l'impero del male aveva i giorni contati, rifiutò a più riprese gli inviti giunti da Ovest per scappare in cambio della rivelazione di tutti i suoi segreti, del suo archivio più personale, dei nomi degli agenti, dei dossier riservati. Pura pensione, Mischa Wolf era sempre Mischa Wolf, un uomo fedele a modo suo, ai propri valori e soprattutto a quello che era stato in ufficio. Preferì non accettare. E quando cronò tutto, quando la Germania Est collassò, non si consegnò. Preferì andare a Mosca, trascorrere lì qualche mese e infine, dopo aver capito che anche l'Unione Sovietica non sarebbe sopravvissuta, consegnarsi alle unità tedesche unificate. Da quel momento in avanti l'uomo senza volto, che ormai aveva un volto, un nome, un cognome e tutto il resto, sarebbe diventato un personaggio pubblico, soprattutto nei processi, accusato di alto tradimento, di spioraggio. Quei processi gli sarebbero costati una prima condanna, poi una soluzione, per aver dimostrato di aver agito in nome per conto di uno stato all'epoca esistente e legittimo. E infine una condanna più lieve, ma comunque con il mantello salvifico della condizionale. Marcus Mischa Wolf si è spento a 83 anni in una casa che aveva comprato a Berlino, in maniera quasi anonima. La data della sua morte, il 9 novembre 2006, acquista un valore simbolico. Il 9 novembre è l'anniversario della caduta del muro. È incredibile come la storia umana a volte si diverte a giocare con le date. Sembra quasi un messaggio a tutti noi. Quello che è avvenuto in passato, quello che è stato, quello che è accaduto, a un certo punto passa in archivio e se ne va. Esattamente come la figura di un capo delle spie, esattamente come Carla, il nemico di George Smiley, che Smiley definisce un fanatico. Mischa Wolf non era esattamente un fanatico. Aveva un'ideologia e ci credeva, ma ebbe anche la lucidità di capire quando quell'ideologia ormai aveva fatto il proprio tempo. E questo ci insegna qualcosa. Mai fossilizzarsi su idee assolute. Perché di assoluto e certo in questa vita c'è solo la morte. Grazie per aver guardato il nostro video e vogliamo ringraziare noi lì dentro la storia NordVPN che ha deciso di sostenere il nostro canale. La sicurezza informatica è fondamentale, l'avete sicuramente capito dato che abbiamo parlato di spie. E NordVPN cambia l'indirizzo IP e maschera la posizione virtuale, quindi consente di proteggere il proprio traffico internet e impedisce di lasciare tracce online. D'altronde viviamo in tempi incerti. Hacker, scammer, spioni vari hanno molti modi per rubare i dati personali e sensibili dei navigatori internet dal dispositivo che viene utilizzato. Ma con NordVPN il traffico online è invisibile. Nel link che trovate in descrizione al video trovate un'offerta imperdibile, uno sconto del 65%, la garanzia di rimborso di 30 giorni, una VPN sicura e alta velocità, protezione anti-malware e il blocco dei tracker per farvi godere di un'esperienza di navigazione più sicura, fluida e veloce su tutti i siti e su ogni dispositivo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS